La Gorà, l'Isola del Gusto, manifestazione nel fine settimana organizzata dall'Associazione Tutti i Colori della Musica. Insomma, il gusto tipico siciliano sarà presente credo per due giorni? Sì, per due giorni. Il sabato e domenica, 7 ed 8 settembre. È una manifestazione che stiamo organizzando di concerto con la Laurus, che ci ospita al Parco Suburbano, e riguarda fondamentalmente la promozione e la valorizzazione delle eccellenze tipiche siciliane. Eccellenze tipiche che non sono soltanto del settore alimentare, ma che riguardano anche le arti, perché ci saranno delle scuole di danza che parteciperanno, ci saranno dei gruppi musicali, dei giovani musicali, cabarettisti siciliani. Quindi un progetto a tutto tondo, che dà sia il sapore del gusto, sia il divertimento e l'intrattenimento. Una manovi da Slow Food, mi pare di aver capito. Sì, siamo patrocinati da Slow Food Trap, nella quale noi aderiamo da qualche anno. Anche loro, con i loro laboratori del gusto, saranno presenti e faranno delle dimostrazioni. Parco Suburbano di Alcamo, gestito dalla Laurus. Allora, l'appuntamento a che ora e insomma come sarà per sommi capi questo programma? Sì, il programma è tutto in divenire. Troverete maggiori dettagli sui nostri social, dove daremo maggiori informazioni. Sommariamente il programma sabato e domenica avrà inizio dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata. Mi pare giusto sottolineare che, come nello spirito ormai ci conosci delle nostre manifestazioni, tanto l'ingresso quanto l'intera manifestazione è assolutamente a titolo gratuito, per cui invitiamo tutti veramente a una grossa partecipazione, un evento a cui teniamo molto anche per rilanciare il Parco Suburbano, che ahimè in questa prima fase di 2019, che va a terminare, è stato un po' chiuso per vicissitudini. Quest'anno Sorribilis, come è andata? Siete riusciti a riprendere la normale programmazione? Beh, non è la sede opportuna, però purtroppo l'inghippo di inizio anno, segnalato tra l'altro anche dalla vostra emittente del problema fognario che ci ha visti coinvolti, la cui risoluzione purtroppo ha avuto dei tempi che si sono dilatati per parecchi mesi, ci ha creato non poche difficoltà e ha creato un grosso stop a tutte le attività, soprattutto con le scuole, questo è un nostro grande rammarico. Stiamo cercando faticosamente di risalire la china, cerchiamo di mettercela tutta come sempre. Diciamo che questa manifestazione arriva anche un po' per festeggiare la rinascita. Sì, più che altro un augurio di rinascita, a cui puntiamo veramente molto con Luciano e amici come Luciano che credono in un progetto di parco, credono in un progetto di volontariato, al quale speriamo che possano adere tutti, non ultimo, la nostra amministrazione. Grazie.